Niente giri di parole o frasi di circostanza. Con una scelta senza precedenti, Papa Francesco ha chiesto umilmente perdono alle vittime di tutti quegli abusi sessuali commessi da membri del clero. Un mea culpa pubblico, quello recitato dal Pontefice, nell'Omelia della Messa celebrata a Santa Marta davanti a sei vittime di atti accertati di pedofilia, un gesto di grande importanza simbolica. Perdono ha chiesto Bergoglio anche per i peccati di omissione che sono stati commessi dai capi della Chiesa, che hanno tentato di nascondere i fatti e non hanno adeguatamente punito i responsabili. Le spido perdono per i peccati di omissione per parte dei leader della Iglesia. Un incontro molto forte, emozionante e coinvolgente, come l'ha definito la Santa Sede, non privo tuttavia di qualche macchia, come ha fatto notare anche un vaticanista inglese. Non sono mancate critiche oggi nei confronti del Papa, critiche mosse per aver aspettato troppi mesi, quasi 16 dalla sua elezione, prima di avere un incontro con le vittime di abusi sessuali. Senza contare che nel gruppo non sono state incluse le vittime argentine. Queste persone hanno mandato una lettera al Pontefice dicendo di essere amareggiate e ferite. In precedenza Benedetto XVI, che accettò proprio le dimissioni dell'allora vescovo di Augusta, vide alcune delle vittime in Australia, nel Regno Unito e in Germania.